Buongiorno, bentrovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale in apertura alla cronaca con l'ennesimo caso di femminicidio che per l'evoluzione dei fatti ha tenuto col fiato sospeso l'Italia fino a poche ore fa, infatti finita poco dopo la mezzanotte alla fuga di Domenico Massari, 54 anni, l'uomo che sabato sera a Savona ha freddato con 5 colpi di pistola la ex moglie Deborah Ballesio di 39 durante una serata di karaoke cui la vittima stava partecipando insieme a degli amici. Fuggito armato attraverso la spiaggia, l'omicidio si è consegnato nella notte alle forze dell'ordine dopo aver esploso in aria 3 colpi di pistola fuori dal carcere di Sanremo. Nel 2015 quando era stato emesso nei suoi confronti un divieto di avvicinarsi alla sua ex per stalking aveva dato fuoco al locale di lei e alla sua abitazione. Da quando era uscito dal carcere un anno fa non avrebbe più avuto contatti con la vittima fino all'altro ieri. Adesso ci spostiamo a Torino, scattata all'alba l'operazione della Digos che da settimane ha dichiarato guerra ai gruppi oltre stessi di estrema destra. In manette sono finiti Fabio Del Bergiolo di 60 anni, militante di Forza Nuova che nel 2001 si era candidato a Senato a Gallarate ed ex ispettore delle Dogane. Fabio Bernardi di 51 anni e Alessandro Monti, uno svizzero di 42 anni, titolare di una società che possiede un hangar vicino a Voghera dove gli inquirenti hanno sequestrato fucili d'assalto automatici di ultima generazione, armi da guerra e un missile aria aria disarmato ma perfettamente funzionante, usato dalle forze armate del Qatar e di proprietà del Bergiolo che stava tentando di venderlo per una cifra di quasi 470 mila euro. L'operazione che il questore di Torino Giuseppe De Matteis ha definito come un'indagine con pochi precedenti in Italia per la qualità delle armi sequestrate e per il loro potenziale violento segue le perquisizioni effettuate nei giorni scorsi nelle varie sedi di estrema destra di Torino nel corso delle quali era stato sequestrato materiale inneggiante al nazismo e al fascismo oltre a uno striscione storico dei drughi giovinezza gruppo Ultras della Juventus che testimonia un coinvolgimento delle tifoserie calcistiche all'interno delle infiltrazioni di questi gruppi oltransisti. All'operazione hanno collaborato anche la Digos di Forlì, Novara, Pavia, Milano e Varese. E invece questa è una notizia che arriva dalla Valle d'Aosta si è in possesso di un orologio Rolex e di un braccialetto Tiffany dimenticati incautamente da una donna all'aeroporto di Torino-Caselle. Nei guai è finita una top manager della Valle d'Aosta ma sentiamo tutta la storia da chi è tipo il centro. Si tratta di un grosso misunderstanding e chiarirò tutto al PM quando la prossima settimana rientrerà dalle ferie. Non lascia trappelare nessuna incertezza la sua voce anche se le telecamere dell'aeroporto di Torino-Caselle non lasciano molti dubbi in proposito immortalandola mentre si appropria di un Rolex da 8.000 euro e di un braccialetto Tiffany del valore di 1.000 euro. Protagonista Monica Pierovano, 55 anni, bocconiana, top manager aostana, amministratore delegato della Cogna Acciai Speciali di Aosta, marchio storico italiano nella produzione di acciaio inossidabile ed ex presidente della Confindustria regionale, in carico che ha ricoperto per due mandati triennali. I fatti si sono svolti l'altro giorno a Sandro Pertini di Torino. La Pierovano era in partenza davanti a lei per i controlli di sicurezza, marito, moglie e figlia diretti in Sardegna. Una volta al di là del metal detector, la Pierovan, così come si vede nelle immagini, si rimette le scarpe, prende la borsa e un borsone e poi in fretta e furia agguanta Rolex Datejust in acciaio e ore brillanti e il braccialetto che la donna prima di lei aveva dimenticato all'interno della vaschetta, convinta che i preziosi li avesse recuperati il marito. Poi indossa Rolex e guardandosi prima a destra e poi a sinistra si avvia velocemente verso il gate. La derubata, una volta appurato che i suoi oggetti erano spariti, ha sporto denuncia alla Polaria, la quale, servendosi di un sofisticato sistema di telecamere di sicurezza installato in aeroporto, ha rintracciato le immagini incriminate. Le informazioni contenute nelle banche dati relative ai controlli passeggeri e riscontri incrociati sul web hanno poi permesso ai poliziotti di identificare la probabile autrice del furto. Durante la perquisizione effettuata nella sua abitazione, la Pierovano non ha proferito parola ma ha consegnato agli inquirenti orologio e braccialetto, sicura di poter spiegare il suo gesto al magistrato. La top manager è molto conosciuta non solo negli ambienti finanziari ma anche in quelli sportivi, essendo riuscita a terminare molte maratone, in primis quella di New York e anche salita in cima al Monte Bianco e al Kilimanjaro ed è cintura marrone di karate. La donna è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato. Adesso veniamo alla vicenda legata alle dichiarazioni spericolate del vice sindaco di Torino Guido Montanari sul Salone dell'Auto di Torino che gli organizzatori hanno deciso di spostare già dall'anno prossimo a Milano. Si conclude come era prevedibile con la decisione del sindaco Appendino di rimuoverlo dalla carica di vice sindaco e toglie le deleghe. Lo comunica proprio la Appendino sulla sua pagina Facebook dove ha scritto questa mattina ho sollevato il professor Guido Montanari dal suo ruolo di vice sindaco e revocato le deleghe che aveva in capo. La decisione segue le frasi pronunciate sul Salone dell'Auto che non hanno visto smentita. Una scelta non facile dal punto di vista umano ma che ho ritenuto necessaria nell'interesse della città e della sua immagine. Al professor Guido Montanari va a ringraziamento per il lavoro svolto in questi tre anni. Poi la sindaca di Torino, Chiara Appendino, sempre sulla sua stessa pagina ha scritto oggi verso le 14.30 al Consiglio Comunale darò alcune comunicazioni importanti. Seguitemi sulla mia pagina e così faremo. Adesso la foto in bianco nero di due mani che strizzano un panno è stata giudicata quella più significativa del concorso che si è svolto su Instagram all'hashtag acquagocce di vita organizzato da AMAG. L'autrice è una giovane di nome Solinda Aguaiari e visto il successo dell'iniziativa comunque del concorso promosso appunto da AMAG iniziato il 22 marzo per la giornata mondiale dell'acqua si è deciso di continuarlo coinvolgendo gli studenti in provincia di Alessandria alle riprese dell'anno scolastico. Ma vediamo anche le altre foto premiate in questo servizio. Sono stati oltre 200 i partecipanti al concorso fotografico tenuto su Instagram chiamato Acqua Gocce di Vita e stato promosso da AMAG Reti Idriche di Alessandria e la cerimonia di premiazione è stata una vera e propria festa che si è tenuta al giardino botanico Bellotti di Alessandria davanti ai bambini dei centri estivi del DLF di Alessandria. La foto considerata più bella è quella che si intitola Mani che strizzano un panno in bianco e nero di Solinda Aguaiari di Prasco. La giuria ha considerato davvero alto il valore simbolico di quest'opera. Al secondo posto Chiocciola tra le gocce di pioggia di Nadia Zancarano di Alessandria. Terzo posto per la foto chiamata Giovani donne formano un cerchio d'acqua di Laura Viaggi di Cassinelle. La giuria speciale dei bambini dei centri estivi del DLF ha premiato con la targa Green Generation la foto di Cristian Messina. Nel suo intervento il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha dichiarato la scelta di promuovere un concorso fotografico per sensibilizzare ulteriormente sul tema dell'acqua e del suo essere preziosa risorsa per la nostra vita si è dimostrata una scelta veramente vincente. Per il presidente del gruppo AMAG Paola Robbio la campagna è meritevole di essere continuata anche in autunno nelle scuole. Avendo ricevuto questo numero importante di fotografie e di partecipanti a questa nostra iniziativa ecco che ci è venuta l'idea di che cosa? Di andare veramente a partire con un programma organico che ci vede partire con i confronti con i presidi i direttori didattici delle scuole per coinvolgere veramente le scuole che le vede coinvolti in un progetto che parte da ottobre fine settembre e che andrà a concludersi in questo periodo a fine del mese di giugno inizio, fine giugno prima settimana prima settimana di luglio. E' stato un successo di partecipanti il 74esimo raduno internazionale Madonnina dei Centauri ad Alessandria. Quest'anno gli iscritti sono stati il 30% in più dello scorso anno ma vediamo da Franco Coppone. Anche quest'anno il 74esimo raduno internazionale Madonnina dei Centauri ha battuto ogni aspettativa sulle presenze. E lo dicono i numeri dei partecipanti. 1.300 iscritti, il 30% di più dello scorso anno. Oltre 4.000 quelli che in sella alle moto, prominenti da ogni parte d'Italia e dell'Europa, hanno spilato per le vie di Castellazzo Bormida e di Alessandria. Folta la presenza della Norvegia che si è piazzata in testa alla classifica di quelli che hanno raggiunto Alessandria da terre lontane, in sella anche dal Peru, dal Belgio, Svizzera, Francia e Spagna. La festa ha preso il via già dallo scorso venerdì e la Notte Bianca che ha riempito di tanta gente il piccolo comune di Castellazzo. Tra i motoclub piemontesi, quello di Alba, gli smorbi group e colli di Crea, tra quelli provenienti da altre regioni, il motoclub Salandra della Basilicata. Per il folclore dimostrato, il Vespa Club di Alessandria. Domenica mattina la festa è l'omaggio alla patrona dei centauri. Nel santuario di Castellazzo Bormida, il vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese, ha benedetto le moto sul piazzale ed ha celebrato la messa in suffraggio di quanti hanno perso la vita e la protezione della Madonna dei centauri per i presenti. Un pensiero doveroso per ricordare lo scomparso storico presidente del motoclub Gigi Bussetti. Poi il trasferimento ad Alessandria, dove in piazza Garibaldi, sotto il palco delle autorità, sono state consegnate le bandiere simbolo dello storico raduno al vescovo di Alessandria, al sindaco Gianbranco Cuttica di Revigliasco, al prefetto vicario Paolo Ponte. Poi una grande festa, dove per oltre un'ora e mezza hanno sfilato moto di grande valore e mezzi diversi, tra loro anche il primo cittadino di Alessandria e di Castellazzo Bormida. Nessun incidente che avrebbe potuto trovare una festa che ha segnato un'altra pagina storica ricca di gioia e di colore del raduno Madonnina dei centauri. Presentato a Palazzo Delfino, a Dovada, un evento di rilevante importanza per la città che si svolgerà il 2 e il 3 maggio del 2020. Si tratta del raduno interregionale delle confraternite. Sono attese migliaia di persone a Dovada. Ma ce ne parla Fabrizio Mattani. Un evento che porterà nel 2020 migliaia di persone a Dovada. Si tratta del raduno delle confraternite, che sarà ospitato in città il 2 e il 3 maggio prossimi e che acquista particolare rilevanza proprio per il ruolo che le confraternite hanno non solo a Dovada, dove ne esistono ben quattro senza contare quella dell'assunta di Belfort e Monferrato, ma anche nella vicina Liguria, con il loro imponente valore storico, in grado di riunire cultura, religiosità e folclore. Normalmente eventi di questa portata sono carattere regionale. Invece quello del 2020 a Dovada ospiterà ben quattro regioni, Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. Novecento saranno le confraternite presenti con i loro preziosi cristi e le casse processionali. La macchina organizzativa già da un anno si è messa in moto, dopo la firma di un documento da parte del sindaco Paolo Lantero e dell'ex parroco Don Giorgio Santi. Per esso sarà costituito un comitato locale per il coordinamento dell'iniziativa, che è stata presentata ufficialmente durante un incontro svoltosi a Palazzo Delfino, alla presenza del neo rappresentante del priorato delle confraternite della diocesi di Acqui, Massimo Calissano, del sindaco Paolo Lantero, del suo vice Sabrina Caneva e del consigliere Luisa Russo. Il programma prevede già sabato 2 maggio un'iniziativa per i giovani e un concerto d'orgono presso l'ovatorio dell'Annunziata. Il club però sarà domenica 3, con l'accoglienza in mattinata delle confraternite, la messa solenne sul sagrato della parrocchiale dell'Assunta, la processione per le vie della città e la celebrazione dei Vespri. Prevista la partecipazione del cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, di Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino e di Monsignor Mario Del Pino, rappresentanza della diocesi di Milano. Dopo il raggiungo nazionale tenutosi a Matera, quello di Ovada sarà il secondo appuntamento più importante e grandioso, ha spiegato il priore generale Massimo Calissano. Per Ovada sarà di gran beneficio, dal punto di vista religioso, ma anche e soprattutto da quello turistico ed economico. Per questo l'amministrazione comunale e la diocesi stanno cercando di organizzare anche altre iniziative collaterali per rendere il momento davvero unico. In viaggio verso l'Islanda, insieme al sorriso di Elena, una bambina di Genova affetta da una malattia rara e l'unico caso in Italia, lo sta per interprendere un videomaker di Novi Ligure che ha incontrato la nostra Alessandra Dallacar. Ci sono viaggi che entrano nell'anima, per la bellezza sconvolgente dei paesaggi che resterà poi impressa nella mente di chi li ha potuti ammirare e per l'opportunità di interagire con altri popoli che ogni itinerario regala. E quello che sta per intraprendere con il suo camper Marco Cermelli, videomaker di Novi Ligure abituato ad immortalare con la sua telecamera gli angoli più selvaggi del pianeta Terra, è tutto questo con qualcosa in più. Dall'Italia, attraverso la Svizzera, l'Austria, la Germania, la Danimarca, prendendo un traghetto della durata di 56 ore per arrivare in Islanda, compiere la Ring Road, conoscere gli italiani che vivono là e tornare a Novi. Ad accompagnarlo on the road ci sarà il sorriso della piccola Elena. Una bambina che purtroppo ha una malattia molto rara, purtroppo è l'unica in Italia e quindi io viaggerò anche per lei per far sapere cos'è questa sua malattia e insomma aiutarla per quel che posso fare io col mio viaggio. Ecco Marco lo ha sottolineato, questo non è il solito viaggio, ci permettiamo di dire, è un viaggio a sfondo sociale, è un viaggio che va a sensibilizzare il tema delle malattie rare. Marco ci ha raccontato che è incappato, è andato a sbattere contro questa storia che gli è entrata nel cuore e quindi la finalità è molteplice insomma, alzare la sensibilità su questa problematica attraverso sicuramente le immagini che realizzerai e tutto il resto. Sì, il viaggio è una di quelle tematiche che attira tantissimo le persone e quindi io cerco di abbinare il sociale, ovvero Elena, questa sua malattia unica al viaggio, quindi interessando le persone a qualche cosa che comunque piace a tanti, a una motivazione sociale. E proprio perché, come dice il motto di questo videomaker dal cuore grande, a volte puoi spingerti oltre ogni confine, l'idea di poter veicolare questo messaggio solidale porterà Marco Cermelli in questa terra dai mille volti, con la speranza che la ricerca medica possa un giorno guarire questa bimba originaria di Genova. Io vorrei chiudere questa intervista come chiudo tutti i miei video su YouTube e facendo un bellissimo sorriso per la nostra Elena. Ciao Elena! Tra poco ci sarà la pagina sportiva, faremo il punto sui campionetti di Tamburello, sarà Fabrizio Mattano a occuparsi, subito dopo il meteo e le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci.